Con la chimera sulla giacca, perché insomma la chimera non solo sulla giacca ma presumo anche nel cuore, perché tutti gli aretini ce l'hanno nel cuore, tornerà questa chimera quella vera o no? Beh chiaramente la mozione che ho portato ieri in consiglio comunale che è stata approvata poi da tutto il consiglio, quindi devo ringraziare anche l'opposizione perché ha capito qual è lo spirito di questa iniziativa. Nel 2019 dovrà essere l'anno del ritorno della chimera ad Arezzo per un evento espositivo naturalmente e questo è in prestito naturalmente dal Museo archeologico di Firenze. È un evento importante che riporta Arezzo al centro dell'attenzione internazionale a livello turistico e questo può essere anche un trampolino di lancio per la nostra economia perché può avere delle ricadute positive su tutto il territorio. Naturalmente parliamo non solo del sistema ricettivo ma parliamo anche della ristorazione perché non anche naturalmente di quelli che sono i negozi, diciamo di tutto quello che è il commercio. Pensando anche a quelli che sono i nostri prodotti tipici locali e anche l'artigianato, i piccoli prodotti artigianali possono essere un momento in cui il turista si li porta a casa, quindi può essere un momento di acquisto, quindi ricadute economiche ma anche occupazionali per tutto quanto riguarda il nostro territorio e la nostra città. Abbiamo un paio di anni a disposizione per costruire questo evento, per fare tutti quelli che sono i passi che si devono fare anche per far tornare naturalmente la Chimera d'Arezzo, trovare anche quelle che sono le risorse economiche magari non solo a livello locale ma vedere un attimino anche a livello della regione toscana, sfruttare o a livello europeo, sfruttare magari quelle che possono essere delle opportunità che in questo periodo ci vengono fornite. E quindi avere la possibilità di riportare anche per un solo periodo, però riportare la Chimera d'Arezzo secondo me è un evento che per noi aretini non apprezzo.